buongiorno salve a tutti siete sul canale pratiche sartoriale la moda continuiamo le nostre lezioni di tecnologia di cucito oggi vi vogliamo far vedere uno dei metodi della rifinitura della scollatura a v per questo abbiamo preparato un campione segniamo dove il rovescio abbiamo segnato anche il centro davanti e sul centro davanti segniamo nel nostro caso 12 centimetri e da questo punto in entrambe le direzioni segniamo un centimetro nel risultato finale la nostra scollatura av sarà definita con due canoncini larghi 3 centimetri e in questo punto si sovrapporano nel nostro caso facciamo un taglio av con linea dritta righello abbiamo disegnato la nostra scollatura ma per una simmetria precisa talleremo questa scollatura piegando il davanti a metà questo è solo uno dei metodi che vi vogliamo far vedere perché è molto interessante e vi sarà molto utile per diverse bluse t shirt o abitini estivi qualsiasi cosa insomma estiva è molto comodo è semplice da fare e si taglia sempre piegando il davanti così a metà e poi ci serviranno due strisce dello stesso tessuto larghe 7 centimetri saranno poi rinforzate con teletta adesiva e stirate a metà e si formano i nostri canoncini bene ora andiamo al tavolo da stiro prima di tutto dobbiamo rinforzare questo punto con una piccola striscia di teletta adesiva è molto importante fare questo passaggio se avete a che fare con un tessuto leggero perché qui si faranno dei taletti di conseguenza è molto importante e misuriamo finché abbiamo qui la scollatura quanto lungo serve il canoncino nel nostro caso questa striscia nel nostro caso basta per tutte e due come vedete perfetto ora rinforzeremo questa striscia la teletta è già preparata quando tagliate queste strisce devono essere leggermente elasticizzate cioè se tagliate in dritto filo potrebbe non cadere bene come si deve meglio tagliare in ordito così si stirano molto meglio noi abbiamo tagliato queste strisce in ordito sia tessuto che teletta chi è più pratico fatele in sarà ancora più bello l'effetto rinforziamo la nostra striscia e si può già stirare piegata a metà prima però natale a tale un po l'eccesso di adesivo non saltate questo passaggio è molto importante ripulire tutto l'eccesso di adesivo deve essere tagliato ora pieghiamo e stiriamo a metà non c'è niente di speciale si stira semplicemente piegando a metà è un metodo molto semplice per questo vogliamo farvelo vedere per poterlo poi usare quando è necessario bene tagliamo a metà perché a noi basta per fare se tutti e due i lati della scollatura questa striscia ora andiamo alla macchina da cucire fate caso noi abbiamo il nostro davanti con la parte dritta in su e ora dobbiamo segnare un punto guida molto importante da questa linea scendere di 0 5 centimetri e quando noi andremo a cucire queste due canoncini l'ultimo punto deve finire su questa linea appena fatta deve finire assolutamente esattamente qui bene ora iniziamo a cucire fermiamo con i spili e poi facciamo la cucitura natalia si è segnato qui il punto dove deve finire la cucitura cuciamo i canoncini margine cucitura 0 5 centimetri sul dietro lo scollo potete rifinire come più vi piace o con sbiego o con paramantura noi oggi vi facciamo vedere come rifinire la scollatura a v con canoncino tagliato in ordito non in sbiego per questo non potete usare anche per il dietro perché di sicuro non potete formare la scollatura fate attenzione l'ultimo punto finisce su questa linea guida non si può finire né prima né dopo esattamente su questa linea di controllo stessa cosa dall'altro lato cucciamo l'altra parte fermiamo con i spili e cucciamo l'altro canoncino e anche qui obbligatore segnare la linea guida ecco natalia ha segnato il punto guida e inizia proprio da qui accuratamente la prima in puntura si fa proprio in questo punto e anche qui margine cucitura 0 5 centimetri è molto importante lavorare qui di precisione perché da questo dipende il risultato che si vedrà poi dal dritto sulla nostra scollatura davanti c'è il nostro scollo a v perfetto molto bene ora giriamo dal rovescio e tagliamo ad angolo fate attenzione tenere i margini sotto piegati per non tagliare anche quelli cioè i margini del canoncino bisogna tagliare ad angolo e arrivare in questo punto dove abbiamo fatto l'ultimo punto della cucitura della cucitura sul canoncino vedete prima di tagliare ad angolo dovete piegare così i margini cucitura sotto del canoncino così vedete natalia tenete con le tue mani tenilo tu dal dritto ha piegato i margini e fa questo taglio fino a questo punto fino all'ultimo punto della cucitura molto bene ecco come si presenta dal dritto ecco i nostri angoletti tagliati ora giriamo tutto questo sul rovescio e andiamo al tavolo da stiro abbiamo girato i canoncini abbiamo fatto in modo che la destra sia sopra a quella sinistra ecco il nostro angolo così si presenta dal dritto e non è ancora stirato ecco come si presenta dal rovescio ora dobbiamo stirare e finire questa parte sotto stiriamo bene i canoncini diamo direzione al margine cucitura sotto molto accuratamente nei angoletti fate attenzione quando stirate dal dritto a non lasciare lucido o fare delle piccole pieghette antiestetiche e solo dopo aver stirato bene i canoncini potete finire questa parte sotto qui giriamo il margine dal rovescio e adesso da questo angoletto a questo bisogna fare una cucitura andiamo alla macchina da cucire ora bisogna fare la cucitura da questo angoletto a questo e adesso che abbiamo fermato i canoncini vedete è venuto tutto perfetto possiamo tagliare l'eccesso qui sotto e a questo punto vedete tagliamo tutto l'eccesso e a questo punto potete rifinire con il tagliacucci i margini oppure foderare il capo se è un capo foderato noi di sicuro non lo facciamo perché questo è un campione che va buttato ecco come si presenta dal rovescio i canoncini sono fermate qui e grazie a questo dal dritto ecco che bel risultato e non è ancora stirato voi a questo punto rifinite con il tagliacucci oppure foderare il capo se il capo è foderato andiamo a finire di stirare il stiro finale della nostra scolatura a V sul dietro invece rifinite come più vi piace potete usare o paramontura oppure con sbiego o sbiego nascosto vedete voi scegliete voi però tenete presente che canoncini tagliati in ordito o in dritto filo non vanno bene per fare scolature arrotondate nel nostro caso qui sarebbe già rifinito con il tagliacucci nel vostro è un metodo molto bene va tanto bene per i tessuti tipo in cotone, in lino, cioè i misti, quelli che tengono forma molto semplice e bello dopo lo stiro finale ecco come si presenta il nostro scolo a V e questo è solo uno dei metodi per rifinire solo il primo siamo molto felici per averlo fatto vedere anche a voi con voi sono stati Natalia, Irina e tutto il nostro team e vi saluto e vi saluto e vi saluto